Ragazzi miei belli, prima di parlare della probabile formazione di Simone Inzaghi parlo di questa cosa qui, mi avete chiesto più volte in questi giorni di parlare di questo episodio, allora nei giorni passati, nei giorni scorsi a Pressing, la trasmissione di Mediaset, c'è stato un siparietto tra Fabrizio Biasin e Ivan Zazzaroni, siparietto in cui Ivan Zazzaroni continua a punzecchiare l'Inter, e in che modo? Dice, RSA? Ne sono ancora convinto, Sanchez ha fatto una partita su 26, ma di che stiamo parlando? Quando vedo Sanchez, Sommer, Arnautovic, vedo una RSA, di contro Biasin ovviamente risponde e controbatte, e dice, Sanchez, la carriera parla per lui, l'anno scorso sul podio tra i migliori della Ligan, stratosferico palla al piede, e non si può di certo pretendere che sia ai livelli di Lautaro e Turam per l'età che ha, ha giocato da trequartista contro il Lecce ed è stato uno dei migliori in campo in assoluto. Rosa lunga frutto anche della fortuna, ma se il terzo e il quarto capiscono il ruolo e sanno di essere alternative, per un allenatore è la condizione ideale, è essenziale avere un gruppo che capisce quello che deve fare, e all'Inter tutti sanno qual è il proprio ruolo, il loro ruolo, e sinceramente sono contento di questa RSA. Intanto volevo fare un applauso per la forma sempre di Fabrizio Biasin che è immensa e anche molto elegante nelle sforzi, ma poi volevo dire a Ivan Zazzaroni, se l'Inter gioca così, vince, convince, è da spettacolo in campo, ma viva l'RSA, orgogliosa di questa RSA. E poi un'altra cosa Zazzaroni, nell'RSA, perché tu hai qualcosa contro l'RSA, non ho capito, perché nelle RSA ci sono le persone che ti hanno insegnato a campare, forse tu non hai assimilato, ma lì ci sono i saggi, i mostri sacri, le persone grazie al quale un tempo si faceva bene, le persone davanti alle quali bisogna togliersi il cappello, viva l'RSA, caro Ivan Zazzaroni!